Nei supermercati di Sardegna di Cagliari ti portiamo la spesa al tuo domicilio. Chiama o manda un sms o whatsapp al numero 379-180-9494 o invia una mail a ordine online chiocciolasupersardissimi.it Per spese superiori a 25 euro la consegna è gratuita, paghi in contanti o con carte. Supermercati di Sardegna, un'isola di qualità per te.